Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli italiani. Un posto vuoto al GF VIP. Sonia Bruganelli rimane il posto vuoto. Il programma ha già pronto i due personaggi che siederanno nello studio. Sonia Bruganelli non sarà al GF VIP della corrente edizione. La bellissima opinionista lascia i fan e lo studio senza parole per la decisione che ha preso e che proprio durante la puntata di ieri ha annunciato senza mezzi termini. La splendida Lady Bonolis ha all'attivo anche l'esperienza dello scorso anno nel reality. Fungente e perseverante come sempre. È diventata una presenza molto ammirata dai telespettatori da casa per il suo modo di intervenire. La sua decisione è ferma e nessuna le farà cambiare idea. Niente paura però che quel volpone di Alfonso Signorini ha già provveduto a sostituirla con con una persona bensì con due. Chi saranno mai a sedersi al suo posto? In verità non è che Sonia abbandona letteralmente la trasmissione in cui si diverte anche tantissimo a punzecchiare gli inquilini. E, è arrivato il momento di prendere una meritata lunga pausa in previsione dell'avvento natalizio. Bruganelli e Family voleranno a New York per andare di certo a fare una capatina al bellissimo bambino, primo nipotino, del figlio di Paolo. Sono tutti euforici all'idea del magico incontro con il neonato Sebastian. A coprire il vuoto ci penseranno due ex concorrenti del reality che ora sono impegnati nel GF VIP Party. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli tra l'altro fidanzatissimo con la voce di Twitter all'interno della E dirette. I due ragazzi sono impegnati già nel dare una prima impronta quando c'è il prime time del GF VIP. Commentano e incontrano gli ospiti e i familiari dei presenti nella casa più spiata e più surreale del piccolo schermo. Saranno proprio loro due le new entry come opinionisti durante l'assenza della moglie del presentatore più irriverente del tubo catodico. Sonia Bruganelli continuerà a ricoprire il suo ruolo dopo le festività. Oltre a conoscere il più piccolo della famiglia, faranno una capatina anche al caldo sole di Dubai. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.